Ieri pomeriggio è arrivato un regalo all'ospedale di Polla. 4.000 mascherine chirurgiche sono state consegnate dalle mani di Maria Rita Di Sarli e Marianna Morello dell'associazione Amodiano. A marzo, quando la pandemia ci aveva colti alla sprovvista, mettendo a dura prova tutto il sistema sanitario nazionale, Amodiano aveva fatto partire su sua lecitazione di tre ragazzi del territorio Uniamoci per il Curto, una raccolta fondi a favore del nosocomio valdianese per sostenere in attività nella fase più delicata. Il Vallo di Diano, in quei giorni concitati, aveva agganciato la gara di solidarietà che stava correndo sul web tramite il portale gofundme.com dove si erano concentrate le principali campagne di crowdfunding da destinare agli ospedali italiani. E nei mesi scorsi il Luigi Curto ha così ricevuto nuove apparecchiature, quattro monitor multiparametrici, un defibrillatore, quattro aspiratori chirurgici, 750 tute monouso idro-reperlenti all'unità operativa di ostetrice e ginecologia e arrivata una sedia olandese multitrack per la nascita dei bambini con parto naturale. Strumenti che a seguito di colloqui tra i referenti dell'associazione e i responsabili dell'amministrazione dell'ospedale di Polla erano stati individuati come necessari alla gestione dell'emergenza e comunque utili ad ampliare il parco strumenti del Luigi Curto. A Modiano, spiegano Marietta di Sarle e Mariana Morello, sta gestendo i proventi della raccolta secondo le indicazioni e le priorità della struttura ospedaliera. Ha deciso così di riservare una parte delle donazioni a questa preannunciata seconda ondata che purtroppo sta facendo sentire duramente i suoi effetti. Ecco che ieri sono stati consegnati i dispositivi di protezione individuale ma c'è ancora spazio e fondi a disposizione per un altro regalo che l'associazione rivelerà a breve. Intanto la direzione strategica dell'ospedale Luigi Curto di Polla ringrazia tutti i donatori e l'associazione a Modiano per l'ulteriore donazione di mascherine chirurgiche. Saranno distribuite, assicurano il direttore sanitario Luigi Mandì e il collaboratore amministrativo Domenico Loviso, a tutti i sanitari nella speranza di contenere il Covid in questa nuova fase emergenziale che ci vede ancora una volta impegnati.